Ciao ragazzi, oggi vi farò vedere i giochi della mia Play 2 Dopo vi farò vedere anche un gioco, il wrestling C'è questo, il wrestling 2007, Smashdown vs Raw Il mio preferito, praticamente tra quelli che ho io e il 2008 E questo è bellissimo Bellissima Poi c'è un'altra, però non è testa Ho Asterix e Obelix Poi ho Robin Hood, che non è granché Questo, che non so bene Age Combat Squadron, Ladder Games Club Poi ho Pest 2008 Pro Evolution Touchers È un gioco con la rete Un altro PS 2011, questo senza rete però mi sembra fosse stato usato, sì Però è bello Abbiamo questo SSX3 Questo è bellissimo Grand Turismo 4 Se lo conoscete c'è anche quello il 6, Grand Turismo 6, che bellissimo Poi c'è un altro Roland Garros, che è da Parigi mi sembra il 2005 Poi c'è un gioco con la rete, che è da Parigi mi sembra che non mi piace per niente Poi c'è un gioco solo per uno Non so se si vede Non so se si vede Eccolo la Se non lo vedete non so farlo vedere perchè il Viettelro non ha la luce One Trespost The Ultimate Challenge 2008 E poi eccolo qua Smatchdown with Surround 2006 E adesso non so, forse giocherò Allora